Mancano pochi giorni al ballottaggio che vedrà contrapporsi Esterino Montino e Mario Baccini per la poltrona di sindaco di Fiumicino. Il confronto, andato in onda ieri sera su Canale 10, moderato da Mara Zarelli, ha visto l'esponente DM e quello del centrodestra dialogare in maniera decisa ma garbata. Il dibattito si è svolto ricalcando lo stile americano con 10 domande e 90 secondi per rispondere. Cosa faranno immediatamente letti? Baccini penserà alla disoccupazione. In media dice c'è una persona senza lavoro in ogni famiglia. Il primo atto concreto del DM invece avverrà entro i primi cento giorni e si concentrerà sul decoro e sulla collaborazione tra amministrazione e popolazione. Un punto d'incontro i duellanti lo hanno trovato sull'ampliamento dell'aeroporto. Per entrambi non è necessario e si deve piuttosto far crescere lo scalo in termini di qualità e servizi. Sulla sicurezza Baccini ha le idee chiare e non usa mezzi termini. Veniamo visti da molti delinquenti come un'area di shopping a cielo aperto. Creerò un'unità di crisi per unire le forze dell'ordine con le associazioni locali. Montino fa riferimento alle telecamere di controllo, circa 100, installate in questi anni e da lì si dovrà ripartire per continuare a sentirci più sicuri. Infine un appello. Perché votare Montino? Perché Fiumicino è cambiata, la stiamo pensando proiettata verso il futuro e ogni anno mille persone scelgono di trasferirsi qui. E perché votare Baccini? Perché è il momento di cambiare, questa è una città dove investire e dove è possibile alzare la qualità della vita. Ora non resta che aspettare la notte elettorale tra il 24 e il 25 giugno quando i residenti del comune conosceranno il loro primo cittadino per i prossimi cinque anni. Il dibattito è disponibile sul nostro sito nella sezione eventi.